Prosegue il nostro progetto Pensa cosa mangi e oggi siamo qua insieme agli studenti per parlare di alimentazione, cibo e come l'agricoltura ha delle ripercussioni anche sui cambiamenti climatici. Siamo partiti dal concetto di alimentazione, dal benessere, dal fatto che come sindacato pensionati vogliamo produrre anche delle sensibilità rispetto a tutti gli argomenti che girano intorno all'alimentazione, alla longevità, al fatto di vivere in benessere e quindi ci sembrava opportuno e comunque una scelta quasi obbligata a parlare anche di questo argomento perché è un argomento al di là di tutto molto attuale e che riguarderà comunque noi stessi e le generazioni future. Mi pare che il convegno sia in linea con quanto stiamo facendo da un po' di tempo nella nostra scuola. Cibo sostenibile, produzione sostenibile, attenzione al cambiamento climatico, sull'uso della plastica. Insomma abbiamo tutta una serie di docenti che lavorano tutto l'anno su queste tematiche. Noi siamo lieti di dare una mano in questa direzione perché si parla del futuro dei ragazzi e la scuola deve essere il futuro dei nostri ragazzi. Lo scopo di queste iniziative è quello di cercare di lasciare un messaggio ai nostri ragazzi come facciano mai da anni per fargli capire che l'agricoltura oggi è diventata una cosa diversa rispetto al produrre solo, ma l'agricoltura è legata all'ambiente, al territorio, al produrre in maniera pulita e soprattutto nel rispetto praticamente del territorio. Per cui tutto quello che può sensibilizzare i ragazzi praticamente ben venga. Noi abbiamo promosso insieme queste altre associazioni, questi incontri per questo motivo qua. L'agricoltura è uno dei settori che contribuisce in maniera sensibile ai cambiamenti climatici sia a scala mondiale in maniera meno intensa anche su scala nazionale. Quindi è importante che cresca la consapevolezza della necessità di cambiare in un qualche modo il modo di produrre e di diminuire quindi laddove è possibile gli impatti che questo settore ha in termini di quantità di emissioni e quindi diciamo di effetti sui cambiamenti climatici. E' molto utile, iniziative di questo tipo sono estremamente utili perché credo che far crescere la consapevolezza nelle nuove generazioni sia la chiave per preparare delle persone che domani possono anche scegliere un certo modo di fare agricoltura e cibi che siano effettivamente a minore impatto.